Questa è bellissima la canna, io l'ho già utilizzata, no cos'hai che hai fatto? Perfetto! Ah, pensavo, scusa, ho capito così, pensavo che mi stesse indicando, ho detto ho sbagliato persona, è una canna bellissima, tra l'altro l'ho usata anche mia figlia, maneggevolissima, si è divertita come una matta, facilissima, è un prodotto estremamente innovativo e siamo orgogliose di essere i primi ad aver aperto la categoria del giardinaggio, è quella che tutti chiamano la canna dell'acqua, è un tubo a giardinaggio facilissimo da usare, pronto all'uso, fantastico! E hanno anche delle borsettine per potersene in giro, grazie mille, così meno uno sa sempre dove metterla, se non rimane...